Sono Roberto Maria Cristofanini, sono componente del capitolo BNI Musine. Faccio il medico odontoiatra ormai da oltre 26 anni, ho uno studio professionale situato a Torino in via Cialdini 43 e in questo studio ci occupiamo delle persone da quando non hanno ancora i denti fino a quando non avranno più i denti. Nel caso in mezzo noi siamo in grado di occuparci di qualunque tipo di problematica, dalla prevenzione, igiene fino a quello che riguarda la chirurgia, la protesizzazione dei denti. Una peculiarità dello studio Cristofanini è l'odontologia forense, io sono uno dei pochi odontologi forensi d'Italia, cioè il medico legale dei denti, specialista nella valutazione del danno di natura civile, di natura penale, piuttosto che assicurativa. L'incontro BNI è stato un incontro assolutamente casuale e inaspettato. Un giorno il mio commercialista mi ha detto Roberto ti devo invitare a un evento di BNI, un evento che ti potrebbe cambiare la vita. Di lì in avanti ho scoperto un mondo assolutamente incredibile, che mi ha veramente cambiato la vita, mi ha cambiato la vita da un punto di vista professionale, pur avendo uno studio ben avviato che lavorava ormai da oltre 20 anni, mi sono trovato ad approcciare in maniera imprenditoriale quella che era la mia attività, perché oggi comunque il mercato quello che richiede è che noi siamo prima di tutto degli imprenditori. Questo BNI me lo ha potuto dare grazie anche alla formazione, una grande formazione che viene data agli iscritti di BNI e grazie all'apporto dei miei colleghi di capitolo, una grande squadra con la quale collaboriamo quotidianamente, con la quale c'è una grande affinità, con i quali ci si diverte anche, tutto sommato, è un modo etico di fare affari. La vita di capitolo in senso stretto è fatta di alcuni momenti ben precisi. Ci sono dei momenti dedicati a quello che si definisce l'open networking, che si svolge sia prima che dopo la riunione. Sono momenti importanti, sono momenti di socializzazione, ma sono momenti in cui si creano dei legami forti tra i colleghi di capitolo. E poi c'è la parte della riunione in sé, dove ognuno di noi è chiamato a dare in 45 secondi l'idea di quello che è l'obiettivo della settimana, di cosa chiedere ai colleghi di capitolo il modo ottimale per essere aiutato. Personalmente, ogni qualvolta ho l'occasione, invito il mio interlocutore a venire a far visita a un capitolo BNI. Voglio regalargli un qualche cosa di speciale, un momento in cui bene o male può incontrare dei professionisti, degli imprenditori che gli possono cambiare la vita. A me personalmente l'ha cambiata e non cambierei più questo percorso neanche per un istante.